Il tumore del polmone fino a pochissimi anni fa era considerato uno dei tumori più difficili da trattare, con meno speranze per i pazienti che ne erano colpiti. Oggi, per fortuna, i punti di attacco, i farmaci in grado di contrastarlo, incominciano ad esserci e una delle speranze maggiori deriva proprio dall'immunoterapia. E noi facciamo il punto proprio su questa classe di farmaci con la professoressa Silvia Novello, associato di Oncologia Medica nel Dipartimento di Oncologia all'Università di Torino. Allora, professoressa, l'ASCO è appena terminato, ci sono state diverse novità, l'immunoterapia è un po' la nuova frontiera nella cura delle varie forme di cancro, anche nel tumore del polmone di cui appunto parliamo adesso. Io vorrei chiedere innanzitutto quali sono i farmaci di cui stiamo parlando e come agiscono? Allora, parlare di immunoterapia come novità sembra un po' strano perché l'immunoterapia in realtà è un concetto datato, si cerca da anni di applicarlo all'oncologia. Finalmente forse siamo riusciti a trovare la strada giusta con questi immunochekpoint. Cosa fanno gli immunochekpoint? Sfruttano un sistema di controllo del nostro sistema immunitario. In pratica vanno a lavorare su quelli che vengono identificati come PD-1 o PD-L1 ed esistono quindi due classi, due famiglie di farmaci che lavorano su uno o sull'altra componente del sistema immunitario. In generale esistono parecchi farmaci in via di sviluppo ma entrando poi nel particolare due di questi sono già più avanti nella ricerca clinica perché hanno già in corso degli studi di fase 3 e sono nel dettaglio Nivolumab e Pembrolizumab. E su questi due farmaci in particolare molti dati sono stati presentati durante l'ultimo congresso mondiale di oncologia medica a Chicago una settimana fa. Ecco, se non ho capito male questi farmaci sbloccano il sistema immunitario e li consentono di colpire le cellule tumorali che invece avevano bloccato dei meccanismi di risposta immunitaria. E' così o è più complesso ancora? E' un po' più complesso perché il sistema immunitario di per sé è complesso e l'altra variabile che dobbiamo tenere in considerazione è che il sistema immunitario cambia nel tempo. Cioè a differenza di una mutazione che è presente fin dall'inizio e che bene o male rimane per tutta la storia della malattia, il sistema immunitario è in continua evoluzione. Questo significa che non è detto che la situazione del sistema immunitario alla diagnosi sia esattamente la stessa al momento della ripresa di malattia o dopo un trattamento in corso. Quindi diventa difficile targettare in maniera precisa il sistema immunitario. Questi farmaci o questa classe di farmaci sembrano esserne in grado. Uno degli elementi che contraddistingue l'immunoterapia è la tollerabilità di queste terapie. Ci dice qualche cosa in merito? Siamo ovviamente più tranquilli e prescriviamo dei farmaci più a cuor leggero quando a fronte di dati di efficacia certi corrisponde un profilo di tollerabilità buono. Come è per questi farmaci? Soprattutto vedere la tollerabilità raffrontata ad un chemioterapico ci fa capire che sono farmaci ben tollerati. Sicuramente esiste una tossicità ma è una tossicità di grado lieve che va affrontata rapidamente nel momento in cui si manifesta ma è una tollerabilità assolutamente migliore rispetto alla chemioterapia. Bene, ora veniamo al tumore del polmone perché appunto pembrolizzo e manivolum sono già approvati sia dall'FDA sia dall'EMA per il melanoma metastatico. I dati nuovi dell'ASCO riguardano invece il tumore del polmone. Cos'è emerso? Emerge un dato di efficacia in generale. Quello che siamo stati abituati a vedere nel corso degli ultimi dieci anni è una terapia per sottogruppi, cioè una terapia che funzionava bene per una percentuale di pazienti compatibilmente con l'istologia o con alcune caratteristiche biomolecolari. Quello che abbiamo visto all'ASCO sono state delle presentazioni che fanno vedere un'efficacia di questi farmaci indipendentemente, per esempio, dal tipo istologico. Quindi vengono presentati dei dati, ad esempio, per nivolumab, sull'istologia non squamosa e poi sull'istologia squamosa. Lo stesso vale per pembrolizumab. Quindi sembra che questi farmaci funzionino e per ora abbiamo dati decisamente più robusti nel trattamento di seconda linea, cioè in pazienti che abbiano già ricevuto una prima linea di trattamento per questi due farmaci in particolare. E con la novità, come lei accennava durante la sua relazione, forse è maggiore nel tumore squamoso, che fino ad oggi non era stato toccato dalle target terapie. I dati quali sono? Si diventa brutto distinguere le patologie e dire siamo più contenti o soddisfatti di un dato rispetto ad un altro, ma in realtà quello che ci aspettavamo da dieci anni a questa parte era finalmente di avere qualche dato di efficacia anche per i pazienti con l'istologia squamosa ed entrando più nel dettaglio per i pazienti forti fumatori che poi rappresentano per il tumore del polmone ancora l'85% dei nostri pazienti. Quindi sicuramente il dato più eclatante è stata la presentazione di uno studio che va a valutare l'efficacia di nivolumab solo nell'istologia squamosa, nella malattia avanzata, in pazienti che abbiano già ricevuto un trattamento di prima linea. E proprio in questi pazienti viene evidenziato un vantaggio in termini di sopravvivenza. L'obiettivo primario dello studio era l'overall survival e l'obiettivo primario dello studio è stato raggiunto tanto che in realtà noi conoscevamo una press release in merito a questo dato già alcuni mesi prima dell'ASCO ma finalmente all'ASCO abbiamo visto i dati di efficacia che vengono confermati come sopravvivenza, come tempo alla progressione e come risposta. Nell'istologia squamosa questo dato è robusto anche in assenza di un biomarcatore quindi il farmaco sembra funzionare a prescindere dalla presenza o meno di una specifica caratteristica tumorale. Senta, questi farmaci sono già disponibili nel nostro paese nel tumore del polmone? Allora, sono disponibili innanzitutto nell'ambito di studi clinici perché sicuramente molti dati rimangono ancora da aggiungere al nostro armamentario di conoscenze. Non possiamo pensare di conoscere tutto sull'immunoterapia. Esistono molte linee terapeutiche, molti spazi che vanno ancora chiariti con più dettaglio quindi c'è la disponibilità per i pazienti di accedere agli studi clinici. Collateralmente a questo si sono aperti dei programmi di expandid access program che consentono ai pazienti sia con un carcinoma polmonare a distologia squamosa ma da pochi giorni anche per pazienti affetti da tumore polmonare a distologia non squamosa di accedere a Nivolumab previa approvazione dei comitati etici locali. E per l'approvazione dei due farmaci, secondo lei, fino a quando bisognerà aspettare? Credo che ci sia la necessità di avere ancora alcuni dati soprattutto nei pazienti non pretrattati che alcuni studi, in particolare gli studi di fase 3, debbano arrivare ad un follow up sufficiente per raggiungere quella che è una consistenza del dato che ne consenta la registrazione ma soprattutto la rimborsabilità. Io temo che ci voglia ancora un anno per arrivare a quello ma fortunatamente, insomma, da un punto di vista del paziente questi programmi di expanded access in qualche modo vanno a tamponare questo tempo di attesa.